Musica 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 Una vittoria a pochi secondi dalla fine, quest'anno anche una vittoria in rimonta a pochissimi minuti dalla fine una vittoria che però ha un peso specifico importantissimo, no? Soprattutto dopo il pareggio casalingo che aveva lasciato un po' di amare in bocca Sì, noi ci potevamo riscattare del pareggio in casa però abbiamo trovato una signora squadra che c'è di questi giocatori e si è vista però è chiaro, se oggi doveva vincere una squadra, doveva vincere noi è stato un gioco solo solo di una porta con tutto il rispetto, va bene che loro hanno tirato hanno fatto due gol però noi abbiamo macinato il gioco abbiamo avuto tante occasioni non c'era, se oggi il pareggio, anche il pareggio per noi era stretto, come è stata la partita merito loro, ognuno si hanno messo il modo suo di giocare però era un peccato per i ragazzi oggi qual è stato secondo te la cosa per la quale i ragazzi sono stati bravi da fuori è sembrato davvero una squadra che comunque non ha mai smesso di crederci è rimasta sempre lucida, tranquilla aspettare il momento buono questi sono i giocatori che abbiamo una bella rosa una rosa di giocatori esperti che in questo momento contano questi giocatori questi giocatori non perdono mai la testa e poi è chiaro anche loro hanno il diritto di sbagliare però sempre con quella voglia il nostro gruppo è un gruppo che lavora tanto durante la settimana io dico che la partita diventa loro non giocano al 100% perché c'è volta la settimana loro allenano molto bene e si vede il ritmo, il ritmo nostro è un ritmo alto un ritmo che si gioca mi piace, è un gruppo che mi piace è chiaro che c'è pure il lavoro di altre squadre di fronte non possiamo pensare che c'è solo noi in campo però complimenti e complimenti per la classifica abbiamo allungato un scontro diretto che è un scontro diretto di oggi era una partita non di tre punti era di sei punti e il primo scontro abbiamo preso il primo del Vertice e il primo scontro diretto è a noi a Lasca con il Vertice prima di tutto cerchiamo di commentare una partita dove la palla davvero sembrava non dover entrare con una quantità incredibile di occasioni e di tiri in porti eh sì, la partita diciamo è stata bella tosta fino alla fine abbiamo cercato di creare il massimo possibile però ci sono, ci sono queste partite dove il pallone non vuole entrare dove magari arriva anche un po' di stanchezza mentalmente non sei così lucido e il tiro accaba che finisci che va fuori però l'importante è che abbiamo creato tantissimo e questo secondo me è il merito perché abbiamo portato i tre punti a casa se non ci fosse stata questa intensità, questa voglia di mettere il pallone dentro sicuramente il risultato sarebbe diverso una vittoria ovviamente importantissima anche per la classifica che a questo punto mantiene al primo posto la Domene Gatti come si guarda al futuro adesso? eh sì, il campionato è questo che abbiamo visto, no? non ci sono partite scontate credo che questa partita ti da una carica molto importante per proseguire perché venivamo di un pareggio in casa un risultato che per noi non era quello che volevamo e il riscatto era importante da subito quindi questi tre punti contro una squadra così forte come il Potenza Piceno che è lì sopra nella classifica per noi è importante ora proseguiamo perché ogni partita sono sempre i tre punti i quali vogliamo sempre tenere per noi